ora perché dal seme nasca un bellissimo fiore cosa dobbiamo fare ruby lo sa giusto il seme ha bisogno di acqua e come tutti noi ha bisogno del guardate sopra le vostre teste ha bisogno del sole ciao sole i tuoi raggi faranno crescere il seme appena piantato sì amico sole se sul vaso farai brillare la tua luce emanerà il tuo calore il seme crescerà e i bambini saranno di nuovo felici che splendore grazie sole i fiori ci rendono sempre felici dovrete prendervi cura di questi bei fiori e farli crescere sani e belli dove state andando grazie sole un suono potente non la stanno prendendo bene il suono li ha turbati ma non li ha svegliati non è facile molto arrabbiato ma provate ancora ci siamo il sole radioso fa tornare il giorno e ora tutti a fare colazione il sole splende e abbiamo una lunga giornata davanti a noi ciao al prossimo episodio con bobby loo ciao a tutti Grazie a tutti.